Questa trasmissione è offerta da Ordan Auto. Benvenuti al punto qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di San Daniele Pietro Valent. Benvenuto sindaco. Grazie a voi dell'invito. Bene, allora San Daniele che è sempre sugli scudi, passata la pandemia c'è la guerra, però chi vuole andare a fare un punto di relax, San Daniele è una delle mete più gettonate nel nostro bellissimo Friuli. Allora il turismo è tornato, no sindaco? Sì, il turismo sta tornando, San Daniele si dimostra sempre una città molto attrattiva. È attrattiva per il nome, attrattiva per quello che può offrire sotto l'aspetto enogastronomico, ma anche culturale. Ci sono tante belle cose da vedere, anche sotto l'aspetto paesaggistico. Noi cerchiamo di curare la città sotto l'aspetto della pulizia, un po' delle manutenzioni, anche finalmente adesso, diciamo, passata questa ultima ondata di pandemia, anche sotto l'aspetto degli eventi. Quindi cerchiamo di spingere in particolare sulla cultura e sulla bellezza. Ecco, prima di affrontare la cultura, che è molto importante a San Daniele, abbiamo una delle biblioteche più importanti d'Italia. Dopo la pandemia è arrivata qui la guerra, quindi anche dal punto di vista psicologico, anche i cittadini qualche volta sono un po' più parsimoniosi, insomma, c'è un po' di attenzione, insomma, anche di rispetto a quello che succede in altre parti del mondo, soprattutto a pochi migliaia di chilometri da noi, no? Ecco, Voto, avete dei sfollati, della gente che è arrivata da lì voi? Sì, San Daniele è stata una delle prime cittadine qui in Friuli ad accogliere degli sfollati. Lo abbiamo fatto perché San Daniele è una tradizione di accoglienza e di braccia aperte nei confronti di chi sta peggio, insomma. Poi a San Daniele c'era una comunità ucraina già esistente, io per esempio ho avuto segnalazioni anche da un ragazzino delle medie che mi ha chiesto di aiutare dei parenti a rientrare a San Daniele, anzi ad arrivare a San Daniele perché non c'erano. Quindi noi abbiamo messo a disposizione una decina di appartamenti, abbiamo adesso 18 persone, abbiamo la fortuna che San Daniele possiede un patrimonio immobiliare interessante, di appartamenti anche utili proprio per situazioni di emergenza che possono riguardare persone nostrane nostre oppure anche, come in questo caso, emergenze di carattere internazionale. Ecco, vediamo appunto la cultura, abbiamo parlato prima degli eventi culturali, la biblioteca, che punto è? Perché mi pare sia stata un po' una diatriba, un rimpallo fra maggioranza, posizione, però alla fine, insomma, il sindaco, la barra l'ha tenuta dritta e come sono le cose? Sì, beh, l'impallo è ovviamente emerso anche su questioni inesistenti, si è parlato spesso di spostamento della Guarneliana intendendo la parte antica, cosa che non è possibile, non esiste. Quello che vogliamo fare invece, che stiamo facendo, è qui che il sindaco e la sua maggioranza tengono la barra dritta, è il potenziamento di tutto il sistema culturale san danielese. Per quanto riguarda la Guarneliana, recentemente abbiamo acquisito il Monte di Pietà in fase di erogitazione, insomma il passaggio dell'immobile dal privato al comune, qui prenderà forma la nuova biblioteca moderna e anche il municipio e nella vecchia biblioteca moderna, quella che attualmente occupa l'ex albergo Italia, verranno ricavati spazi importanti per sviluppare ancora il tema della Guarneliana. Ma cultura non è solo questo, ad esempio abbiamo aperto la Guarneliana alle visite, abbiamo voluto nei mesi passati, anche durante la pandemia, portare a visitare la Guarneliana tanti esponenti del commercio san danielese che non la conoscevano, perché è bene che quando arriva qualche turista a San Daniele, quasi tutti o tutti noi sappiamo raccontare quello che possediamo. E poi recentissimamente abbiamo avuto la visita di Pippo Zeffirelli con la fondazione Zeffirelli e qui abbiamo un progetto molto importante che prenderà corpo e occuperà il Palazzo del Monte di Pietà nella fine di quest'anno, del 2022, con un'esposizione che legherà San Daniele a Firenze intorno alla figura del maestro Zeffirelli e poi porteremo anche dei codici della Guarneliana proprio nel cuore di Firenze, in particolare il Dante e il Tresor di Brunetto Lattini. Sì, insomma un rilancio in piena regola in sostanza, ecco, bene. Poi nel frattempo avete anche il bilancio da chiudere, l'avete chiuso a tutto posto. Noi andremo fra 15 giorni, 20 giorni in consiglio con il bilancio di previsione. San Daniele è una città molto viva, abbiamo molti investimenti, molti contributi portati a casa in questi 48 mesi di legislatura, stiamo iniziando l'ultimo anno di mandato e quindi abbiamo un bilancio che è davvero frizzante. Considerate che 25 milioni sono le opere pubbliche che sono state realizzate o sono in corso di realizzazione in questi quattro anni, quindi una cifra importante. Poi ci sono anche risorse ingenti che abbiamo messo a disposizione dell'emergenza ucraina, della popolazione per quanto riguarda l'emergenza Covid, delle conseguenze e anche delle imprese. Quindi stiamo cercando veramente di coprire tutto il ventaglio delle necessità della nostra città, credo anche con buoni risultati. Con le tasse sono rimaste invariate? Le tasse sono rimaste invariate, abbiamo fatto due interventi, in particolare nei confronti di famiglie e imprese, per sostenerle per quanto riguarda le bollette e per quanto riguarda le imprese, la tassa sui rifiuti e anche un contributo, un attantum per quelle imprese che hanno sofferto di più durante il Covid. Quindi un contributo che si sta concludendo l'istruttore proprio in questi giorni e che poi, visto che abbiamo ancora risorse a disposizione, verrà riaperto per quei soggetti che in questa prima fase sono risultati esclusi. E quindi è stato anche un maggior lavoro per la macchina comunale? Mi pare c'è qualche tassello che manca, oppure è stato facendo concorsi? La macchina comunale è stata sotto pressione durante tutto questo periodo. Il Covid ha ulteriormente, diciamo, spinto a stressare la struttura. Però devo anche dire che in questi mesi abbiamo recuperato e stiamo recuperando importanti figure. È arrivato il PO dell'urbanistica edilizia privata, quindi il capo ufficio, un architetto molto bravo. È arrivata proprio da inizio marzo la nuova responsabile della Biblioteca Guarnaliana, nel settore cultura, nel settore amministrativo, che è arrivata dal Comune di Udine. Stiamo inserendo due C per l'amministrativo e a brevissimo anche un C tecnico per l'Ufficio Lavori Pubblici che, come vi dicevo, sta svolgendo una mole di lavoro molto importante che se passate a San Daniele la vedete perché ci sono gru o lavori un po' dappertutto. Ecco, parliamo poi di questi lavori pubblici, di interventi che avete. Partiamo dal più recente, anche uno piccolino, tutto sommato, ma che ha dato una svolta importante alla città. Mi riferisco al parcheggio di via Dalmazia via Carducci, realizzato in tempi brevissimi. Non è ancora aperto perché manca il collaudo che arriverà fra qualche settimana, ma abbiamo recuperato una bella porzione di un bel borgo dove c'erano dei ruderi che sono stati demoletti e hanno reso disponibile questo spazio per 22-24 posti auto nei pressi dell'ospedale. Altra cosa interessante è che quel borgo si è allargato e apre alla visuale del colle Costeon che è quel colle che sta a fianco dell'ospedale, quindi una cosa interessante. Poi dicevo il Monte di Pietà l'abbiamo appena acquisito e abbiamo 2 milioni e mezzo per la sua ristrutturazione. Abbiamo concluso l'anno scorso le scuole elementari, abbiamo chiesto e ottenuto dei contributi per le scuole medie che andranno, diciamo, nella fase di ristrutturazione del prossimo anno. Ci siamo dedicati a molti asfalti, a molte manutenzioni di marciapiedi, all'illuminazione pubblica, quindi diciamo che adesso parte, proprio subito dopo la Redifesta che sarà a fine agosto, partirà la ristrutturazione dell'ex albergo Italia per quanto riguarda le facciate, gli infissi e il tetto, quindi un altro palazzo in piena piazza che tornerà a splendere. Ecco, poi c'è sempre il piano di ripresa e resilienza, no? PNRR, noi stiamo lavorando sul PNRR, chiaramente non abbiamo al momento grandi sbocchi perché tutte le opere che avevamo in mente di realizzare, i palazzi disponibili, sono più o meno già finanziati. L'ultima, un'opera che non ho citato prima, è il Teatro Ciconi, e proprio nelle ultime due settimane, ne avete già dato conto a Telefriuli, abbiamo tolto le impalcature esterne e adesso il teatro è quasi nella sua visione estetica definitiva. Mancheranno le impiantistiche, avremo ancora un anno e mezzo, due di lavoro, ma tornerà anche questa bella struttura a favore della città e del collinare in generale. E poi c'è sempre il mondo delle associazioni, che è San Daniele, insomma, non manca di dare una mano alla comunità, no? Sì, di associazioni ne abbiamo molte che si occupano di tutto e di più, dallo sport, alla cultura, ma anche al volontariato. E in questo diciamo che, per esempio, stiamo lavorando con l'assessore allo sport e gli altri colleghi della Giunta a sovvenzionare, a supportare le attività che durante l'estate vengono realizzate dalle associazioni, in particolare sportive, per accogliere i giovani. Sono, diciamo, un paio di estate che i giovani hanno poca possibilità a causa del Covid di attività e quindi noi stiamo cercando di sostenerle sotto questo aspetto. Ma poi ci sono anche aspetti di solidarietà, Scriptorium, Foro Iuliense, con le sue attività, ha fatto una donazione proprio a favore degli ucraini, con il progetto Dante Guarneriano. Diciamo, i due pistoni, la situazione dei due pistoni, anche loro hanno dato da poco un supporto alle famiglie ucraine che stiamo accogliendo. Quindi c'è una molta vitalità a San Daniele. Tutto questo aspettando appunto aria di festa, no? Che mi pare che siete pronti per ripartire la grande, no? Aria di festa, sì. Questo è il sentore. È stato recentemente a San Daniele, ho sentito che tutti attendono questo evento, insomma, maico? Sì, per quest'anno dovrebbe tenersi l'ultima settimana di agosto, quindi nella fine dell'estate, un periodo che storicamente era il periodo di aria di festa fino a alcuni anni fa, alcuni decenni fa, e credo che potrà essere un'edizione importante per la rinascita, la ripartenza. Devo dire che anche negli ultimi giorni, quelli che hanno riguardato la Pasqua, il San Daniele è stata meta di tanti turisti, abbiamo visto anche targa austriache, persone arrivare dalla Francia, quindi da fuori regione, dal Veneto, che è un pubblico che da noi, insomma, è piuttosto interessante, e quindi ecco che l'attrattività di San Daniele si conferma piena. Non manca mai la puntatina a San Daniele, anche da parte degli udinesi o anche dei cittadini, comunque anche da Trieste, da Gorizia, insomma, mi pare che c'è un brulicare di gente che passa a San Daniele. Bene, allora mi pare che il quadro che il sindaco di San Daniele ha dato è un quadro, diciamo così, quasi esaustivo, manca ancora qualcosa, che mi pare c'è sempre qualche sorpresa. Io lo ringrazio per la sua presentazione e anche per la sua presenza qui a Telefriuli, naturalmente ci vedremo la prossima volta con un altro sindaco, un'altra cittadina e altre storie. Alla prossima! Questa trasmissione è stata offerta da Orzan Auto a tutti! Salve eh! Questa trasmissione esita! Almeno canal! Grazie a tutti! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Che? Grazie a tutti.